Cari ragazzi e insegnanti, buon inizio d'anno. Finalmente ci rivediamo in presenza. Finalmente abbiamo la gioia di vederci concretamente guardandoci negli occhi e non più soltanto a video. Sarà un anno particolare quello che andremo a vivere. Dovremo camminare con la presenza del covid. Ma questo lo possiamo fare con serenità perché in questi mesi abbiamo scoperto che ognuno è una grande risorsa per l'altro e finalmente abbiamo anche imparato che nessuno è solo insegnante o solo alunno. Tutti siamo a un tempo alunni e insegnanti. Tutti abbiamo qualcosa da imparare dagli altri. Tutti abbiamo qualche cosa da insegnare agli altri. Buon anno e buon cammino.